pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica è la parabola del seminatore che potremmo definire la regina di tutte le parabole è talmente importante che gesù altrove ha detto se non capite questa come potete capire le altre la parabola spiega perché lo stesso seme della parola di dio produce effetti tanto diversi nelle persone perché ognuno la riceve in base alle proprie disposizioni dunque la parola di dio non agisce magicamente ma la sua efficacia in noi dipende dalla disponibilità del cuore mediante questa parabola gesù vuol aiutarci a guardarci dentro chiedendoci ma il mio cuore che tipo di terreno è come vedremo i diversi tipi di terreno dunque di accoglienza della parola non sono soltanto diversi tipi di persone ma possono essere presenti al contempo in ciascuno di noi rappresentano diversi modi di ascoltare o meno la parola magari in diversi momenti della nostra vita ci aiutano a capire quali sono le nostre principali resistenze alla parola di dio ora mi cari prima di entrare nel tema dell'ascolto e guardarci profondamente nel cuore dobbiamo chiederci una cosa ma perché gesù parla in parabole infatti se ci avete fatto caso il testo è suddiviso in tre parti nella prima sezione gesù annuncia la parabola alla folla e conclude dicendo chi ha orecchi intenda nella seconda sezione i discepoli si avvicinano a gesù e gli chiedono perché parli in parabole quindi nella terza sezione gesù spiega la parabola ora perché gesù parla in parabole perché dio nella nostra vita spesso parla in parabole mediante l'austera citazione di isaia gesù ci fa capire il motivo perché vuol vedere se a noi interessa e gli usa le parabole perché chi non vuol capire non capisca e chi invece vuol capire capisca per comprenderle è necessario avvicinarsi a gesù avere una relazione con lui un cuore aperto alla grazia e di conseguenza lasciarci aiutare anche dalla mamma chiesa che ci spiega la parola la spezza c'è la cucina aiutandoci a comprenderla ora miei cari andiamo alla parabola da un lato abbiamo il seminatore che semina con abbondanza un seme che in sé è estremamente vitale potente efficace questo seme viene seminato su un terreno ancora arido alla fine dell'estate secondo l'ausanza orientale indistinguibile dalla strada dal quale emergono sassi e sterpaglie semina con abbondanza sperando in un fecondo raccolto questo seminatore figura del signore ci fa capire la generosità di dio dio semina abbondantemente generosamente parla continuamente alla vita di ciascuno di noi ci viene incontro in tanti modi con la sua parola talvolta nascosta negli eventi quotidiani perché perché dio generoso e ha a cuore il meglio per ciascuno di noi desidera che la nostra vita giunga a pienezza che portiamo tanto frutto dio non è sparagnino non è selettivo restrittivo è generoso è grande nell'amore e la nostra vita è piena di grazie di semi di bellezza il punto qual è che questo seme in sé estremamente vitale efficace con una potenzialità enorme incontra vari tipi di terreno quattro in particolare tre dei quali non ne permettono la crescita e a questo punto la domanda diventa che tipo di terra è il mio cuore anzitutto il seme incontra la strada gesù spiega ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel cuore il papa ci ha detto che rappresenta il cuore duro impermeabile ciò avviene quando sentiamo la parola ma essa ci rimbalza addosso non entra perché magari sono distratto da altro ascolto quella parola ma ma le mie idee sto percorrendo la mia strada continuo senza lasciare che quella parola mi interpelli veramente oppure quando ascolto ma non capisco e noi in genere cosa facciamo quando una cosa non la capiamo la escludiamo ma c'è un pericolo miei cari assolutizzare quello che noi capiamo ci sono delle parole non immediatamente chiare ci sono degli avvenimenti nella nostra vita che non sono immediatamente spiegabili la vergine maria ci insegna che più importante del capire immediatamente c'è il custodire custodire nel cuore mantenendo una relazione con il signore pensate quando gesù viene ritrovato al tempio alle 12 anni gesù dirà a maria e giuseppe perché mi cercavate non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio maria immediatamente non comprende ma custodisce nel cuore certa che a suo tempo capirà dio spesso ci salva e ci conduce a pienezza proprio attraverso le cose che qui ed ora non capiamo perché dio è più grande e ci chiede fiducia quella fiducia che ti porta a dire signore io non so dove tu mi stia portando non so perché tu stia permettendo questa cosa ma mi fido di te so che ho un disegno d'amore su di me e se mi stai chiedendo di attraversare questa strada allora sono certo sono certa che nascosto vi è un bene più grande secondo tipo di terreno la parola incontra i sassi germoglia subito perché vicino alle pietre c'è umidità ma appena arriva il sole un po di calore secca gesù dice quello seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia ma in sé non ha radici ed è incostante così appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola egli subito viene meno abbiamo dunque il problema della superficialità di fermarci all'entusiasmo di stare nelle cose del signore finché mi piacciono finché mi emozionano ma non scendere in profondità papa francesco ha detto è un cuore senza spessore dove i sassi della pigrizia prevalgono sulla terra buona dove l'amore è incostante e passeggero eccomi cari abbiamo qui un problema restare su un piano prettamente emozionale senza permettere alla parola di radicare nel nostro cuore è un rischio serio fagocitare esperienze saltare di pali in frasche ma non mettere radici non abbracciare un cammino e percorrerlo seriamente abbiamo quindi il terreno spinoso questo seme che cade tra le spine germoglia cresce ma crescono anche le spine e lo soffocano gesù spiega quello seminato tra i rovi e colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto l'ansia del mondo la preoccupazione di avere di più di non avere abbastanza ansie capaci di soffocare il seme della parola di dio in noi qual è qui il problema far crescere la parola di dio insieme alle spine delle preoccupazioni mondane che sempre rispuntano come la testa dell'idra pensare di seguire il signore e al contempo il mondo credere che seguire cristo non comporti rinunce non entrare nella lotta spirituale ma seguire il signore dunque dire di sì all'amore comporta anche dire dei no a tutto ciò che amore non è la vita chiede dei tagli e si cresce per mezzo dei tagli chi cerca soltanto piacevolezza e pensa di stare nelle cose comprese le cose del signore soltanto finché lo fanno star bene si accontenterà di razzolare di strisciare sul ventre del proprio egoismo di non spiccare mai il volo ma per volare oltre alla capacità di farlo ci vuole una scelta quella di sbattere le ali papa francesco con grande concretezza ha detto che il seme che cade tra i rovi sono i vizi che fanno appugni con dio ciascuno può riconoscere i suoi piccoli o grandi rovi i vizi che abitano nel suo cuore quegli arbusti più o meno radicati che non piacciono a dio e impediscono di avere il cuore pulito occorre strapparli via altrimenti la parola non porterà frutto e il seme non si svilupperà infine miei cari ecco il seme che cade sulla terra buona che produce un frutto enorme 160 30 per 1 qui si parla di un raccolto eccessivo sovrabbondante perché si parla del di più di dio laddove trova accoglienza e gesù parte dal 100 perché in un cuore totalmente aperto la parola di dio porta un frutto centuplicato enorme il centuplo nell'antico testamento è segno di benedizione una benedizione enorme nella tua vita nella vita di coloro che hai accanto e gesù spiega quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende questi nel tempo da frutto e produce il cento il sessanta il trenta per uno cari fratelli e sorelle questo è il sogno di dio che la nostra vita sia piena che la nostra vita sia una benedizione che la nostra vita sia un capolavoro d'amore non temiamo allora di lasciarci afferrare fino in fondo dal signore non temiamo di dar spazio la sua parola di ascoltarla custodirla e viverla e non temiamo di riconoscere i nostri fallimenti non temiamo di riconoscere la nostra superficialità non temiamo di riconoscere le tante volte nelle quali abbiamo lasciato cadere a vuoto le parole di dio nella nostra vita non temiamo di riconoscere le nostre difficoltà a scendere in profondità non temiamo di riconoscere i nostri attaccamenti i rovi dei vizi che portiamo dentro il nostro cuore perché con l'aiuto di dio e lavorando pazientemente sulla terra del nostro cuore il nostro cuore possa diventare sempre più terra buona allora sì che la nostra vita giungerà pienezza sarà piena della sua benedizione e sarà benedizione anche per la vita degli altri che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti